Ah, è così noioso stare su Isola Idiota. Per fortuna, ho la mia palla di gomma! Nel precedente episodio di Inanimate Insanity, c'è stata la sfida dei dieci personaggi raccomandati. Orzacchiato ha dato del filo da torcere, ma Mela non si è fatto mettere i piedi in testa. La sfida principale era una staffetta, e chi vinceva si prendeva Mela. Sia Michelino che Pennello che Aranciata hanno fatto un sacco di Epic Fail. E finalmente la squadra Epic ha fatto la sua epica vittoria. Ma Michelino è stato eliminato, e al suo posto è rientrato in gioco Lampadina. Però Michelino adesso ha finalmente la sua bellissima palla di gomma! Compratene anche voi. Cetriolo ha avuto il suo appuntamento davvero galante, ma alla fine si è mangiata la sua compagna. C'erano dei rumori, Marshmallow ha detto che non era niente, chissà chi sarà questo misterioso personaggio. La squadra di Chris Depolet era a rischio di eliminazione, ed hanno avuto finalmente l'opportunità di eliminare Palloncino. Non potevo essere più contento di così! E adesso che abbiamo fatto vi lascio con lo speciale d'Halloween. Sono un personaggio raccomandato, mi è stato detto di venire qui. No, non puoi entrare! Hai una carta d'identità? Dove dovrei andare? Tornerò. Sono contento che Palloncino non c'è più. Era stupido. S-s-s-s-s-sì. Ma ora l'alleanza non c'è più. Cetriolo vuoi far parte dell'alleanza? Va bene. Sì, e invece tu, Taco? Mi è freddo! Per la prossima sfida ho intenzione di farvi fare dolcetto o scherzetto. Yeeey! Ma non ci sono case nei paraggi, quindi ho sparso 11 caramelle sull'isola. Voi dovete prenderne più che potete e metterle nel vostro sacchetto. Fra 10 minuti dovrete svuotare i sacchetti in questo contenitore per vedere quante caramelle avete. La squadra con il maggior numero di caramelle vince la sfida. Quindi, andate a prendere caramelle ora! Ar-ar-aranciata. Possiamo lavorare insieme? S-sicuro, non vedo perché no! Uh, un secchio di dolci! Ehi, vai! Wow! Ehi, guarda quanti dolci ho trovato Mela, quella è spazzatura E puzza, allontanati Sono caramelle, e se vuoi te lo provo Cinque, oia cinque Ehi, guarda Un albero di caramelle, prendiamole, bomba OMG, io tipo Odio i dolci Io tipo, odio i dolci Io sono a dieta Beh, se tu sei a dieta Ovviamente lo so anch'io Marshmallow, guarda, una caverna Sarà pieno di caramelle lì Ma è così buia Sono una lampadina Ehi, Luke There are some candies Ok, saltiamo Tempo è scaduto Vediamo quante caramelle avete Ma un attimo Abbiamo perso cetriolo, taco e marshmallow Wow, squadra epica Congratulazioni Avete raccolto ben 235 caramelle Che potevano essere di più Se Milano avesse raccolto spazzatura Ok, squadra kiss le polè Voi avete raccolto solo 40 caramelle Quindi la squadra kiss le polè Ha perso di nuovo E siete tutti a rischio di eliminazione Però Dò l'immunità Aranciata e bomba Che sono gli unici A aver raccolto caramelle Quindi A rischio di eliminazione Sono solo sale Pepe Piolo e taco Vattene Forse sei tu quello che se ne deve andare MiPhone 4 Cosa vuoi? Probabilmente non sei uno di quelli a cui piace la Apple Perché se no sapresti che sono MiPhone 4S E sono appena uscito Quindi? Quindi sono tecnologicamente migliore Ho nuove applicazioni E un nuovo timbro di voce che posso cambiare Sei serio? Ti sbagli Sono Siri Guarda che lui si ha parlato con me Comunque Sei troppo vecchio Quindi devi morire Ma sono uscito solo un anno fa E ho dei premi fichi Comunque Ho un biscotto Lascialo subito andare Ora Oh mio cio Cosa hai fatto? Chi se ne freda Ora sono io il conduttore Io spero che non verrà eliminata Oh grazie Spero anch'io di non venire eliminata Io invece spero che lo sei La ragione per cui abbiamo perso è perché tu eri a dieta Beh Almeno io mi sto a tuffare Tacete Ascoltatemi È ora di eliminare qualcuno di voi Abbiamo 252 voti Di più della volta scorsa Beh Almeno io sono meglio di te Zitto Non sono cose che ti riguardano Beh Almeno io sono meglio di te Mi hai tardato Se non stai zitto Tira doppie voti Ma io penso Benissimo I tuoi voti sono raddoppiati Ehi Non puoi farmi questo L'ho appena fatto Andate avanti Ecco i biscotti Come promesso No non li abbiamo Devo rimediare Siri Sì capo Dammi 5 biscotti Ora Caricamento biscotti Ora abbiamo i biscotti Aranciata e bomba Voi avete ricevuto immunità Della sfida Quindi siete tutte e due salvi A me non piacciono i biscotti Perciò te li dò Te bomba Grazie Adam Um Yes You have got 5 votes again Ah that's horrible Wait Who are you? Con soli 26 voti Anche Cetriolo è salvo Ma li ho raddoppiati Quindi ora A 52 voti Sì Taco Sei salvo Perché solo 58 persone Hanno votato per te Bleh Sale e Pepe Voi due avete ricevuto Il maggior numero di voti Aspetta Ma questo significa che Sì Una di voi sarà eliminata E io sarò più felice Oh mio dio No Tacete O vi elimino tutte e due Pepe Sì Sei eliminata con 102 voti Sale ha preso 61 voti Quindi è salva B Oh 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 No, Pepe! Taci sulla tua fidanzata! Comunque, la prossima sfida sarà molto divertente, soprattutto se qualcuno muore! Tu sei pazzo!